Altro campione d'Europa del Benfica che però oggi non è presente è l'Iseu, che è in vacanza. Si credo non abbia mai giocato, però vediamo l'Ice, potrebbe esplodere il destro, foltissima la barriera, si sono aggiunti anche Acqua e Bellotti, parte con il destro molto interessante, e che gol, e che gol Gianni, e che gol, Ade Miliac si presenta così in questa partita importantissima, un esordio per lui, che gol meraviglioso Gianni. Come partita la palla si è visto subito che andava a finire all'incrocio di pali, il portiere ci ha provato con tutte le sue forze e vedo che anche i tifosi del Benfica applaudono perché il gesto tecnico è veramente di grande spessore. È veramente questa, è una brodezza di Adem Liaic, fantastico il destro a giro sopra la barriera. Gol! 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 Calcio dei pali, prova ad arrivarci con la mano destra, Paolo Lopez. Beh, diciamo che Paolo Lopez non ha fatto il massimo, però credo che il tiro fosse indirizzato bene, anche con una certa velocità. Stupendo calcio di punizione da parte di Liaic, che ha qualcosa da dire alla terna arbitrale. Comunque bel toro, vivo.